Ha vinto il più forte nel ciclismo, non si scherza, in tanti alla vigilia erano pronti a scommettere che Matteo Zurlo sarebbe salito sul podio più alto del Giro del Casentino numero 104 sul traguardo di Corsalone. E così è stato l'atleta della Zalf Fior ha fatto il vuoto dopo il passaggio nel Gran Premo della montagna di Chitignano dove è stato preceduto dal romagnolo da porto. Poi nella picchiata verso Bibbiena si è formato un gruppetto che comprendeva anche il vincitore di due anni fa Manuel Pesci, Iacomoni e l'alto tiberino Quartucci che venne battuto proprio da Pesci a Corsalone. Tutti credevano che finisse alla stessa maniera ma Zurlo è un fondista che sapeva di ristiare molto in quella situazione e allora ha deciso di allungare il passo proprio nel terreno più impensabile con un'azione di forze andato a conquistare una vittoria che solo un grande corridore poteva fare. Del resto certe malizie le ha imparate dal suo DS Gianni Faresine che in corsa era uno capace di tutto. A 24 secondi Magli della Mastromarco ha regolato un gruppetto ristretto, terzo Iacomoni, quarto Quartucci e non è uno scherzo mentre Pesci si deve accontentare del sesto posto. Oggi è stato dura perché sono partito dopo 70 chilometri circa, siamo arrivati in 6-7 e alla fine nella salita lunga siamo scordinati in due e dopo qui nel finale siamo riuniti in cinque e dopo gli ultimi dieci chilometri ho dato uno scatto e sono arrivato. Hai scelto il momento giusto, era quello il momento dove attaccare? Sì perché ci stavamo un po' guardando tutti e a quel punto ho deciso di scattare e mi è andata bene.